Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Cari amici, bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. Nel corso di questa domenica l'anticiclone nord-africano continuerà ad avvolgere il Mediterraneo centrale e tutto lo stivale, quindi regalerà una nuova giornata molto calda da nord a sud, dominata quasi ovunque dal sole, eccetto qualche addensamento sull'arco alpino che non produrrà particolari conseguenze, più qualche breve scroscio di pioggia, ma di poco conto in questo contesto di grande stabilità le temperature aumenteranno ulteriormente su tutto lo stivale, specie negli aree interne. In Abruzzo, una giornata ancora una volta molto calda, molto stabile, con tanto sole e inocui e densamenti nei settori interni, non ci saranno particolari conseguenze, non ci aspettiamo temporali, a più qualche brevissimo piovasco, ma davvero di poco conto. Le temperature in questo contesto non subiranno grandi variazioni, massime tra i 34 e i 36-37 gradi, minime tra i 22 e i 29 gradi di Pescara, quindi valori praticamente simili tropicali, molto caldi anche per il pieno dell'estate. Parliamo di temperature di oltre 7-8 gradi, al di sopra delle medie del periodo. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.